oh meno male stiamo registrando abbiamo leonardo che sta giocando con la playstation oltretutto sta giocando con la juve c'è impossibile non so non può un interista giocare con la juve impossibile quindi la juve ti ho offerto di più non l'inter hai detto inter prima ero all'inter però mi hanno offerto più la juve se ne hai dato la juve non ami la tua maglia non ami la tua maglia nero azzurro venduto quindi la partita di oggi contro chi ha arriviamo ora c'è tutti i cagliari testiamo avanti è la quarta giornata e siamo al primo posto a loro punti insieme al Minan sono sempre in campo proprio adesso venduto sei un venduto sei un cinese venduto sono della juve solo per i soldi eh ciao venduto da un cinese